Per me sì, la privacy è tutto eh Eh, facci vedere qualcosa Dai lì, come andai? Sì, la patata da... Oh, è giocatura qui Bravo! Vieni là eh! Bravo! Allargati bene qui eh! Ah! Dai! Dai! Eh, non provi? E allora! Ah! sei pronto? ti prendi? ti tengo per manina? dai, su, lo accompagno 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! ma che ti scangi! e che sarangia! la sarangia! bravo! bravo! 5 bravo! 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 quando scende il Montesa si sente tutto si sente tutto perché non gli hai dato? eri perfetto cacchio eri perfetto hai aspettato troppo basta via andiamo andiamo via parcheggiato e a posto mi tocca anche andare a aiutarlo per forza come no? hai sfrisato la carrozzeria hai sfrisato? no meglio del mio paratubo rotto e anche il vito